Ma porco cazzo! Che cazzo è? È certo che mi fai buttare un gold adesso, che è la mamma trota! Annamo! Partiamo di Cimbala! Dai, partiamo con un ottavo posto. Non lo scrivo nei risultati, se faccio fuori dalla top con Cimbala. Perché non vale. Un po' forte sto... Sto ragazzo ubriaco. E prendiamo già un danno in meno. Non metti nei risultati perché tanto è scontato. Ma è molto probabile che sia ottavo posto con Cimbala. Il fatto che lui abbia due elementali è brutto comunque. Poi Blizzard dovrà giustificare il fatto che appunto sia un 2-3 da una parte e un 3-3 dall'altra. Ma quelli sono cazzi suoi. Cioè, lo devono specificare. Attualmente non è stato detto, eh. Quindi... Ullala! Un altro elementale! Ullala! Teeny Winish Trip Bikini! Eh, me coglioni! Oh, raga. Oggi... Mi sento fortunato comunque. Io ve lo dico. Oti, è una patch che arriverà. È una patch che arriverà. Che arriverà. Che introdurrà una nuova tribe. Esclusiva per Battlegrounds. Questa tribe... Si chiama... Killbor. E sono dei maiali, sostanzialmente. Quindi... Per questo che stiamo dicendo maiali, maiali, maiali. Io mi fido. Raga, io mi sento fortunato. Poi sapete che dal sentirlo ad esserlo, sono due cose diverse. Cioè, sono due cose completamente diverse. Sentirsi fortunati a essere fortunati. Questo qua diventa bello grosso. Secondo me qua si fa level up comunque, roll. Considerando che il Mini 7 costa 2000 gold. Raga, secondo me è un modo per tirarli fuori. Lì c'è e quindi è comodo averlo. Qua perdo. Ma perché sono sotto di pezzi. Perché mi manca uno di attacco qua anche. Perdo perché sono in svantaggio di pezzi, però, eh. Però, se no, siamo messi abbastanza bene. Cioè, sta coppia, l'essere al 3... Non è malvagio. Adesso devo smetterla di livellare. Mi servirebbero un paio di elementali sto turno. Nope. Quello è un bel elementale, fratello mio. Peccato che non sia stato baffato lui. Gran peccato che non sia stato baffato lui. Cyber Nova, lo metto alla fine del game. Karazhan. Allora. Mancano i Murlock e i Demoni. Senza i Murlock è bello perché è buono. Ho l'impressione che lei abbia la mummia. Ho l'impressione che lei abbia la mummietta. E mummietta rompe i coglioni. Fondamentalmente la mummia rompe i coglioni. Se lui ha fatto 4 win streak, vuol dire che non solo ha la mummia. Probabilmente c'ha anche qualche spawn di qualche tipo bestia. Quindi è un mezzo problema. Ma il miniset quanto rimane? Un anno. Un anno. Un anno donatore. Cioè ogni cosa dura fino alla rotazione successiva. Le cose dell'anno della Fenice durano fino alla fine dell'anno del grifone. Quindi ti dura tutto un anno. Mentre se tu compri il miniset di discesa dei draghi. Il miniset di discesa dei draghi invece termina adesso. Diciamo no. Perché discesa dei draghi fa parte dell'anno del drago. Che adesso se ne va. Capito? Come funziona la rotazione. Qua eravamo pareggi. Pareggi invece vinciamo noi. Ok. Dirai le emozioni e il porto solo del cielo la ripiante. Ma è affanculo Fabio. Quando torni troverai meno mille punti. O forse no. O forse no. O forse no. A quanto rimane nello shop il miniset. Non saprei domatore. Triple al 5 però. Al 5 non c'è tanta roba. Ma non posso triplare al 6. Peccato che non livelli qua a Milaos. Perché. Poi una merda. Non è così forte come pensate questo eh. Non è assolutamente così forte come pensate sto pezzo. Assolutamente non è forte come pensate questo pezzo. Anzi. Era meglio la... La tempesta della locanda. Credo che Chef Nomie non sia neanche tra i primi 5 migliori che volevo prendere. Ve lo dico terra a terra. Non è nemmeno tra i 5 migliori che tu possa prendere. Chef Nomie vi sembra. Ma è molto più debole di quello che sembra Chef Nomie. Io ve lo dico. Molto più debole di quel che sembri. Peccato. Stavamo per pareggiare nonostante fossimo estremamente sotto. 6 danni va bene. Adesso dipende. Se trovo 3 elementali allora va bene. Cazzo diventa OP. Però col fatto che ho pochi pezzi non posso permettermi troppi roll. Insomma. Ok. Cioè allora. Se succede questo. Allora vabbè. C'è nel senso. Allora. Beh. Bonnie. Io intendevo proprio questo. Cioè. Se succede questo. Allora Cimbale è broken. E allora Cimbale è sbagliata. Capito. Quindi. A sto punto vi dico. Va bene. Mi prendo le mie responsabilità. E sto a posto. Ok. Ah. Dallora. Visto così è forte Chef Nomi. Visto così però. Non fatevi beitare dal panda del cazzo. Non fatevi beitare dal panda del cazzo. Prossimo turno eh. Level up. Compro. Compro. Ed è fatta. Oggi ho vinto anche con turno raga. Ho fatto delle brawl della madonna. Dei minefield della madonna. Cioè. Ho perso. Ma perché ho fatto il coglione con turno eh. Ma che uno. Le davo in mano le mie game a uno serio vinceva. Però questo signor Zefris è un po' un faccia di cazzo eh. Zefris è incazzato come un animale etrusco. Non scudare il 7-4? Te l'ho detto che oggi secondo me la vita mi sorride. Dai raga ho fatto due giornate di merda in sti giorni. Ho perso una valanga di punti in sti giorni su DG. E oggi un po' sì. Raga o Ginni siamo pronti. Siamo pronti. Quanti danni potevo fare? Nei 7 ai 13. Vabbè. Infatti 12. Andata quasi male. Costa 1 il level up. Potrebbe essere abbastanza. Allora. Comunque meno forte del tipo di ieri eh. Comunque sono. Meno forte del tipo di ieri che ha trovato Bran. E tipo 17 pezzi della locandala. Ecco però non farlo ancora per favore. Basta. Abbiamo fatto due roll brutti e adesso basta. Perfetto. Perfetto. In realtà mi sa che faccio doppio sell. Sì. Ma porco cazzo! Che cazzo è? È certo che mi fai buttare un gold adesso. Che è la mamma trota. Trota. Eh si prende lui. Si prende per forza. È che Deadwing mi incula a me. A me Deadwing spacca il cazzo. È forte Deadwing incontro di me. Si frizza ma non è fantastico eh. Io per questo odio sto panda di merda. Va bene. Ciao Jack. Tutto bene? Questo turno qui paradossalmente distrugge tutto quello che abbiamo appena costruito. Ma perché c'hai due gocce in bordo a turno 8? Ma che bordo è signor Deadwing? Che cazzo stai facendo? Tu vai qua. Bravo. Bravo. Bene. One. Two vabbè. Non è il migliore degli ordini. Ok. Ok. Era pareggio qua no? Ero sopra io invece. Non avrei mai detto di essere così tanto sopra. Invece sono abbastanza sopra. Ok. Pam, 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 pam. Devo triplare io eh. Sai forse cosa sto sbagliando? Che sto tenendo sta merda. E vabbè che è estremamente stupido pensare che adesso che la vendo cambia tutto però. Però. Infatti. Ti non posso livellare che mi costa così tanto. Mi servono degli elementali. Bravo. Se ti gioco e ti vendo. Bene. Bona. Io comunque tengo ancora il 9-7. Se tripliamo magari? No. In realtà adesso mi sa che è meglio diventare un pochino più forti. Cioè veramente. Che cazzo. Quante brocche mi ha dato. Credo 6. 5 o 6 brocche mi ha dato. 5 o 6 brocche. Cristo santo. 5 o 6 mi ne ha date. Adesso mi frizza anche Enforcer. Enforcer. 5 o 6 brocche. Con il Divine Shield del Clive già proprio. Cioè veramente. Era un'amenaggia di... No mancata. Molto più che mancata questa. Un'amenaggia di della Madonna questa. Sì. Siamo deboli comunque noi adesso eh. Siamo deboli ragazzi. Noi siamo deboli qua. Infatti non so se facciamo level up come vorrei. Come da piano. E qua siamo debolini noi. Cacchiamo noi. Elize. Elize. Un bacio. Un bacio. Un bacio ai miei amici. Vabbè in realtà credo che fossi sopra comunque no. Orco diaz. E va là. E' solo di cattiveria sto trade. Sto trade è solo cattiveria. Praticamente sono 22 credo. Grazie a sto trade sono 22. 23 grazie a sto trade. E comunque eravamo estremamente sopra quindi non c'è problema. Non pensavo perché lei l'ho vista triplare al 6. Ho detto è forte. Ozzac. Ozzac vuol dire cazzo eh. In un'altra lingua. No è meglio non provare a triplare questo. Grazie per non darmi una sega. Eh questo qua si incazza come un ubriacomo. No. Rag Gar. Rag o Gar dai. Dai che ce la facciamo eh. Kind of. Kind of. Kind of. Un po' una merda eh Ginny. Perché gli fornisco l'overkill gratis. Cioè gli faccio fare un overkill io qua. Sicuramente è meglio di Amalgadon perché non ci sono i Murlock. A te mi servivi prima fratello ubriaco. Raga non è bello qua eh. Minchia qua prendo un cazzotto importantissimo in faccia raga eh. Non lo so Akira forse esce qualcosa più tardi. Si può darsi. Tanno il fatto che non riesca a triplare stile mentali è veramente brutto. Aia. Ma scusa tu avevi 6 pirati. Dove sono questi 6 pirati? Mi hai mentito. Mi hai palesemente mentito gioco. Oh là. Finalmente Cristo Santo. Cioè nel senso a mezz'ora. Ma sono sopra. 92. Eh va là. Ma raga ma non sono eccessivamente forte io eh. Cioè lui per aver fatto 4 triple fa particolarmente cagare sto ragazzo eh. Per aver fatto addio al panda il prossimo turno. Eh adesso vediamo cosa in cosa triplo sta tripla poi. Cioè prima ovviamente si prende rag. Questo si tripla. Si prende rag. Gioca rag. Si gioca lui. Vabbè sì. A meno che il buff non vada lì ok allora. Ovviamente miss supremo. Eeeh ok. Chi mi sa che se ne va il panda di merda. Panda goloso. Se ne va il panda goloso. Gini è molto forte eh. Secondo me si fa così. Noi giochiamo anche l'iso per avere l'adapt extra. E poi finiremo ovviamente di domo. Che bufferà cyclone. Eeeh. Cioè Gini serve per rag. Secondo me è troppo debole Gini. Cioè possiamo fare un sacco di danni noi. Cazzo buono eh. Divine shield e wind fury. E' super good divine shield e wind fury. Forse hanno bisogno di una lezione sul dolore. Cioè lui ha divine shield in realtà. Poteva prendere veleno sto stronzo. Però vabbè. Meglio di niente. Sì dai. Lui si prende un paio di buff. Niente di esagerato. Più 4 più 4. È gratis diciamo. Cioè non potendo chiudere con un pezzo ha senso buffare un divine shield e via. Oh mio dio lo scammer. Vai su Khadgar please. Khadgar please. Boh lui va bene lo stesso. Lascia fare. Che merda lo scammer. Che c'è anche una malgatone con veleno peraltro. Tu clivala. Ma no. Che cazzo fai. Ma il fatto che io abbia ammazzato il 5-5 è comunque super good no. Attacca lui. Io vado dritto su Khadgar vero. Bene. Boh perché io non voglio essere scammato da 7 Elise. Va bene facevano tutti merda. Però nel dubbio è meglio ammazzare che essere ammazzati. E l'Ital no. Oh vada. Non siamo così grossi comunque eh. Ti ripeto. Siamo grossi ma non abbiamo fatto davvero troppe porcate. Ci abbiamo rag preso adesso. Non abbiamo particolari finergie. Non è così esagerato. Capito. È sicuramente sotto la media. Però. A thousand people. Is calling my name. But I won't... Eh... Bran mai. Bran mai. Lui mi sa nemmeno. Cioè lui è... È piuttosto piccolo diciamo. Io stavo pensando di tauntare a Malgadone. No non c'è bisogno di fare... Di tauntare a Malgadone. Ancora. Vai. Go. È un micro micro deba... C'è in realtà c'è Argus. È leggermente più forte se faccio così. Eh che cazzo rag. Se la smetti di baffare te stesso. Faccia di cazzo. C'è tanta altra roba su questa board. Tu qua è più forte di quello dorato. Cristo. Vedete il gruppo sub? Sto bestemmiando tantissimo. Che succede Jack? Che cazzo... Eh... Dai che palle. Vabbè lui... Lui ha montato una scam build. Lui ha montato una scam build. Ed è una mezza inculata sta scam build. No. A thousand people... Calling my name. Porco diaz non muore. L'infame. Non muore. 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 Amore mio. Che cosa voglio io? Ti dico porco di... No. Fondamentalmente questo qua non fa un cazzo, no? No, mi sa che avendo lui e... Basta. Eh... Questo non lo compri l'altro. Cioè non è worth. Tra i tauntarlo. Traveremo un Divine Sheed Taunt che effettivamente manca ancora, eh. che effettivamente manca. Una merda però. Sto girando elementali troppo piccoli con sta ora del cazzo. Che questo qua è dorato e quindi si tiene. Di cazzo di Cleave Choice! Sto... È il Cleave Game questo. Cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Cosa vuol dire 5 Cleave? Così 3 più 2. Cosa vuol dire? Cosa mi sta a significare? Cleave, Cleave, Cleave Golden. A parte che il Cleave Golden andava davanti. Vabbè, lasciamo perdere il positioning che non è il massimo. Io perdo qua, eh. Vai, tranquillo, gioco. Prenditi il tuo tempo per caricare la board. Alla fine immagino sia difficile. Veleno, veleno. Se questo va sul Divine è fatta. Fatta. Niente Cleave. Questo è brutto. Cleave. Blah! Minchia, col positioning giusto era fattible. È vinta lo stesso, però non è l'Ital. Però non è l'Ethal. Eh, no. No. Eh, per il positioning era un po' così. Positioning era un po' così, sì. Io mi ricordo che ho fatto una build con 3 mini-rug. Eh, io anche io me la ricordo. In realtà abbiamo fatto con Budi una build con doppio mini-rug dorato. Frana Bill, cosa... Dimmi... Giusto per capire, Frana, ti devo permabannare o la smetti di fare l'idiota? Chiedo, eh. Io chiedo sempre. Frana, ti devo permabannare o la smetti di fare il coglione? Chiedo, chiedo, eh. Poi fai tu, amico mio. Ciao, YouTube. Può essere... Beh, c'invale, regà. Per me c'invale a vincere su tutto, cazzo. Per me c'invale a vincere su tutto. E' meglio di una rosa. A me, in realtà, Gar fa cagare. Se non mi serve un cazzo a me... Sì, beh, è un ennesimo taunt, ma... Non ne vale la pena dargli più HP. Non serve un cazzo. Scusami. Scusami. Sta mossa è un po' gridi. Sta mossa è un po' gridi, ragazzi. E io ve lo dico. È un po' gridi questa mossa. Perché significa fare un altro turno dopo di questo. Capito? Significa fare un altro turno dopo di questo, questa mossa. Ma vai tranquillo, gioco. Prenditi il tempo che ti serve. Perché in realtà io mi sono, tra virgolette, depotenziato. No, lui ha rimosso il cleave da davanti. Allora è deficiente. Allora è pazzo. È pazzo, lui. È pazzo. È folle. Vabbè che mi sa che non c'era chance nemmeno con il cleave davanti, onestamente. Not even close. Ma no, cazzo. Vedi che c'erano delle chance. E niente, è impazzito. Non ho potuto neanche fare triplo... Non ho potuto neanche fare triplo... Triplo Ginny. Per il clickbait su YouTube. Pazzo sì, pazzo per Gesù. Va bene. È fatta. Grande. Bene. Aha. Aha. Ciao YouTube. Dieci mil... Oh, Dio. Guarda. Guarda che figli della merda. Guarda. Pazzo sì, pazzo per Gesù. Pazzo sì, 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 pazzo sì,